Gentili telespettatori, buona giornata. Eh, voi non ci crederete ma è tutto vero. Che cosa? Che cosa? E l'Ischlein ripete ancora la stessa cosa. Basta, cioè basta che? Basta con la normalizzazione della destra nazionalista. In che senso? Ma che vuol dire? Basta con la normalizzazione della destra nazionalista. Io mi ricordo una volta che ho parcheggiato la macchina a Pacchino-Portopalo, giù in Sicilia, in fondo dove si vede a Pacchino-Portopalo, dove vedi anche l'Africa nei giorni, e arriva un parcheggiatore abusivo e mi dice, io sono il tranquillizzatore del visitatore, nonché il tranquillizzatore del visitatore. Cioè tu gli paghi, lui ti guarda la macchina e lui ti tranquillizza. Quindi lui, il parcheggiatore abusivo, nel 1993, era il tranquillizzatore del visitatore. Sentendo l'Ischlein che dice, basta con la normalizzazione della destra nazionalista, mi è venuto in mente quel parcheggiatore abusivo, che era il tranquillizzatore del visitatore, e l'Ischlein dice no alla normalizzazione della destra nazionalista. Che vuol dire? Non si sa. Andiamo avanti. Per noi è molto importante essere qui, oggi, con la famiglia socialista, firmando questa dichiarazione congiunta, che è anzitutto un impegno a dire mai alleanze o coalizioni con le forze nazionaliste di destra. Gli è piaciuta la parola nazionaliste di destra, eh? Uuuuh, che brutta parola, nazione, nazionalista. Ebbah, che brutte parole, mamma mia, questa destra che utilizza la nazione, la patria. Sentivo l'altra sera in un programma di sinistra, che diceva, questi qua del governo parlano sempre di patria, nazione. Non si parla più di paese. Questi termini del ventennio, nazione, patria. Perché non dire paese? Questo è il livello del dibattito in Italia, eh? La Meloni e il governo parlano di patria e nazione, al posto che paese. E mi viene in mente quella canzone che dice, pomeriggi di paese in mezzo al niente, tra i discorsi della gente. Beh, ogni tanto mi vengono in mente delle cose un po' così. Vabbè. Poi, che cosa dice Elena, che ha firmato questa dichiarazione? Congiunta in Europa, coalizione contro le forze nazionaliste di destra. O questo vale, dice, sia per i conservatori guidati da Giorgia Meloni, che per il gruppo identità e democrazia di cui fa parte Matteo Salvini e di cui fa parte Marine Le Pen. Schlein, la Meloni in Europa è conservatrice, la Meloni in Italia è fascista. Ma come? Eh, perché lì guida il partito dei conservatori europei. Ma, Schlein, se tu dici che la Meloni è fascista o neofascista, lo è anche in Europa. Quindi, in Europa, secondo la tua logica, non sarebbero conservatori europei guidati dalla Meloni, ma sarebbero neofascisti. O no? O il discorso fa acqua un po' da tutte le parti? Eh? Eh, direi di sì. Poi, la segretaria del PD ha rilanciato l'allarme sulla libertà di stampa. Avete visto ieri che nella rassegna stampa i giornali fiancheggiatori della sinistra titolavano DIMINUISCE LA LIBERTÀ DI STAMPA! È vero? Eh sì, è vero. Ma c'è un grosso però. Eh? C'è un grosso però. Allora, c'è una classifica della libertà di stampa. Infatti, la Schlein dice Siamo qui anche perché si bettono a rischio alcuni fondamenti della nostra democrazia, come purtroppo abbiamo visto già accadere in alcuni paesi europei. E parte di questa dichiarazione riguarda anche il muoversi a difesa del pluralismo, dell'indipendenza dei giornalisti e della stampa, per cui noi continueremo a batterci. Povera Schlein. Che vi devo dire? Libertà di stampa a rischio in Italia. Allora, io vi racconto questo, poi ognuno di voi penserà a quello che vuole. C'è una classifica sulla libertà di stampa. Il nostro paese è sempre stato giù nella classifica. Per esempio, partendo dai primi anni 2000, quindi da 24 anni fa, il nostro paese era al 77esimo posto, poi 58esimo, poi 61esimo, poi 65esimo, fino ad arrivare al governo Meloni e prima quello Draghi. Allora, con Draghi la libertà di stampa era, eravamo in classifica al posto numero 58. Però nessuno gridava al pericolo della democrazia in Italia. Con Draghi, nella classifica sulla libertà di stampa, quindi con il governo dei migliori, ricordate i migliori? C'era Di Maio, Salvini, migliori proprio, migliori di quelli... Eh, mica pizza e fichi, eh, siamo mica qui a pettinare le bambole, il governo dei migliori. Col governo dei migliori, nella classifica della libertà di stampa, eravamo al posto numero 58. Arriva la Meloni e l'Italia fa un balzo. Ah, fa un balzo, eh, fa un balzo, sì, fa un balzo e risale 17 posizioni. Dalla posizione 58 risale alla posizione 41. Ah, eh, mai stati così in alto nella classifica, mai stati in posizione superiore al 40. Mai stati. Caspiterina, come? Allarmi, allarmi, sono tornati i fascisti e la libertà di stampa dal posto numero 58 risaliamo al posto 41. Eh, 17 posizioni, e che? Come è possibile? Sarà falsa. Eh, ma non la fanno in Italia la classifica? Ah. Questo era l'anno scorso. Quindi primo anno del governo Meloni, classifica libertà di stampa, posto 41. E tutti muti. Cosa succede quest'anno? Dal posto numero 41 siamo risaliti al posto numero 46 e i giornali fiancheggiatori della sinistra gridano all'allarme democrazia. posto 41, posto 46, l'Italia non è mai stata così in alto nella classifica della libertà di stampa. Non siamo mai stati così liberi come il posto 41 dell'anno scorso e il 46 di quest'anno. Quindi è diminuita la libertà di stampa? Sì, dal 46 siamo scesi al 41. Ma quando c'era Gentiloni, Renzi, Draghi, eravamo tra il 58 e il 77 come posto. Giudicate voi se la Schlein andando a gridare sulla libertà di stampa, dico io, ma la Schlein ci crede a quello che dice o è pura propaganda? Io ho paura che ci creda, io ho paura che nessuno le abbia spiegato realmente questa cosa che ho spiegato io. No, io non spiego niente, io racconto le cose, non ho la presunzione di spiegare niente a nessuno. Io racconto le cose, poi chi mi segue mi segue, chi non mi segue non importa. Ma credo che nessuno alla Schlein abbia raccontato questo della libertà di stampa. Arrivederci a tutti e grazie.